Ingresso di Flemmatico per andare agli ordini dello starter, manca soltanto il Marangon. Manca solo il Marangon, un brillante Golden Opportunity e allora il Marangon è superato da Aloe Angel e Flemmatico, Flemmatico che va davanti su Aloe, il Marangon, Golden Opportunity, piglia tutto, Flash Lucky, no way out, in coda Motivetto, Flemmatico non strappa e va davanti su Golden Opportunity che può rientrare, quindi Aloe Angel si trascina, piglia tutto e in terza corsia, Flemmatico e il Marangon, Motivetto e no way out, sulla curva Flemmatico, Golden Opportunity, forza in terza corsia, ora Flemmatico su Aloe Angel, in quinto e piglia tutto. Poi il Marangon di dentro, Motivetto e no way out, quando si entra in dirittura, Flemmatico, Golden Opportunity, Flash Lucky, tre davanti a Aloe Angel che ha di fuori Flemmatico in anticipo lungo su Motivetto e no way out, di dentro il Marangon, scappa Flemmatico da Golden Opportunity, da Flash Lucky, da Motivetto e il Marangon e piglia tutto con Flemmatico che va in caccia di Flemmatico su Motivetto che è all'esterno, lotta lo Flemmatico, Flash Lucky e Motivetto poi piglia tutto con Flash Lucky attaccato da Motivetto che cambia marcia, lo attacca e passa Motivetto su Flash Lucky e Flemmatico. Flemmatico, 10 e 65 Motivetto, aveva stracorso l'ultima volta. Andrea Fele fa la corsa su Flash Lucky e poi lo va a prendere, per il terzo rimane Flemmatico davanti a Pigliatutto, oggi non brillante come la penultima e quarto soltanto sul palo è tutto. Prova, prova archetto, prova archetto.